zero kill il coltello se mi ricordo dove ce l'ho in che senso prendo questo enorme la scatola dei biscotti perché c'è l'apertura facilitata che sai come fin con un gruppo di precisi a quelle aperture no non c'è c'è scritta apertura facilitata però non c'è che senza biscotti ti senti perduto insomma con vuoto difficile pensare salve ragazzi al vino allora esca diversivo ma è di là mazzo non fare niente aspetta fuori mazzo unisci ti vieni da ditemi che non sta venendo da me quello perché ho mandato la vista mente non me ne vede alcuni a su cazzo mi spiegate che cazzo ci fa uno da dentro aspetto a su cazzo spiegatevi un po cosa devo fare niente aspettiamo un attimo che un attimino di pazienza che devo entrare se non mi vede il cecchino entro volentieri sono a dentro adesso aspettate un attimo che vi parlo ma adesso si può sparare quello è il momento proprio che ho tutta tutta la gente se vedete dove stessi vengono tutti da me stessa in una montagna ragazzi io ho tutta la tua zona ce l'ho aperto tanto i silenzatori non servono fare che cazzo questo è avvenuto sotto bastardo infame per un vero via 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 secondo cecchino fuori tank fuori ecco la paglia parte di informazione gratuita dopo ci serve una macchina io non ho capito mi serve una macchina una macchina questa non so che cosa però va bene la macchina le ruote mi sto avvicinando oggi anche una cassa d'armi cazzo di apache di merda che ho sparato 75 colpi quasi eh fatto fatto attraverso il muro ma c'abbiamo la torre missivistica c'abbiamo la torre missivistica sappiamo l'elicottero salite 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 tutti ma io c'ho il SUV anche questo funziona dai sali muoviti via mai averla da standard conso emo arrivo adesso c'è un estrazione americano con i biscotti si fa tutto ma battere la pianta a cosa ho danno avanti c'è davanti c'è un bel po di gente adesso ma c'è una curva un po più sportiva non vedo un cazzo si recampi è più veloce perché più avanti c'era un nome dove faccio il posto di blocco mi preferisco passare qua in mezzo di andare lì ciao caos a mini gun in bocca ti piace si cosa io ho seduto insieme cazzo che non hanno aderente a 3com che alla piattaforma da fa prima o in testa che pilota in palio dovrete disintegrare 15 veicoli dell'unità con le c4 in estrema ovvero ovvero totalmente randomi non vedo la pasta anch'io anch'io ma arriva sta gente daria nessuno ma io sono aspetta fuori la vecchiaio un'ora esatto c'è del caffè la bolivia certo che c'è il caffè c'è anche il zucchero un caffè la fecchino sul mio un caffè la ceboli un caffè la ceboli non vedo la canzone Grazie a tutti.